Competenti, decise e determinate a coniugare l'attività agricola tradizionale con le moderne tecnologie informatiche e perciò anche esperte utilizzatrici del computer nonché navigatrici della rete. È in aumento il numero delle giovani donne che, nonostante le difficoltà e i problemi crescenti, non intendono abbandonare l'attività, donne il cui lavoro e il cui impegno sono determinanti per il futuro delle aziende agricole di montagna. Gestisco un'azienda agricola qui a Gromo, un'azienda in diritto a zootecnico, alleviamo Bruni Alpine, bacche da latte. I nostri problemi sono la mancanza di reddito in primis, la mancanza di spazio sicuramente perché i nostri prati vedete come sono e sono tutti ripidi, i prati sono stati usati per fare le strade, per fare le seconde case. Sicuramente qui i terreni rendono poco rispetto in pianura perché bisogna lavorare tutti in braccia, i mezzi meccanici ci sono però non sono utilizzabili perché i terreni così ripidi giustamente non si possono usare, quindi facciamo tanto lavoro manuale, serve tanta mano d'opera e la mano d'opera costa. Mi diceva che la carne non è richiesta? Assolutamente, dalla nostra macelleria no perché importano tutto dall'estero, se riusciamo a trovare qualche privato vendiamo la manzetta, il vitello così, però nessun macellaio che ritira la nostra carne, la nostra carne vale in alca, a Lodi, l'ospedaletto lodigiano, un macello grandissimo perché sono i grossi che fanno il mercato, non sono noi piccoli. Lei è una delle allevatrici giovani che si avvalgono delle moderne tecnologie informatiche. Sì, io ho il computer dal 2000 grazie a un contributo alla provincia di Bergamo, ho fatto anche il corso base perché non avevo nessuna nozione e lo trovo utile perché navigando in internet posso consultare i listini prezzi, le novità, le normative, il sito della regione Lombardia, in questo mi aiuta, mi tengo più informata, quello sì, poi nel lavoro pratico forse un po' meno.